21 a 21 come grammi che peserebbe l'anima un omaggio dunque ad una persona cara scomparsa si è giustificato così questa mattina e la giovane graffitaro identificato e denunciato dalla squadra mobile di Arezzo. Il ragazzo negli ultimi mesi ha tappezzato numerosi muri della città coscritte come quella che vedete alle mie spalle. Questa mattina è stata eseguita la perquisizione nella casa dei genitori in quella dell'anziana nonna dove il 25enne Aretino senza lavoro abita. Gli agenti hanno trovato diverse bombolette di vernice qualche bozzetta ad alcuni ritagli di giornale relative ad articoli su di lui ad incastrare il ragazzo le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un distributore di benzina alle porte di Arezzo dove il 25enne aveva colpito qualche settimana fa. Il giovane graffitaro è stato così accompagnato in questura questa mattina dai poliziotti per le formalità di rito ha ammesso candidamente di essere lui l'autore delle scritte. La squadra mobile inoltre in questi giorni sta ricevendo le querele dei cittadini proprietari degli immobili imbrattati. Circa un centinaio le scritte riconducibili al giovane graffitaro il ragazzo infine aveva con sé anche qualche grammo di hashish verrà colpito così da una sanzione amministrativa.